Ci siamo? Yes! LUISI! L'UO! 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 Grazie a tutti! Massimi, che... ...che un puntato romogene! L'UO! E' iniziato! Si va! Si va! Questo andrà avanti così tutta la sera, già lo so! Questo per farlo sta zitto bisogna fagli i gol! Orco due! Orco due! La prima volta che ci affacciamo in sette minuti! E infatti hai visto come si va affacciati tutti quanti, bravo! ... 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